In giro per la Calabria a parlare con i cittadini e incontrare i vari pezzi della società. Dall'elezione del segretario nazionale Elis Line, il Partito Democratico mostra un ritrovato attivismo e torna nelle piazze. Nicola Irto, senatore e segretario regionale del PD, in giro per la regione in occasione delle diverse feste dell'unità per portare avanti le battaglie ai primi posti dell'agenda politica. Stiamo facendo una battaglia nazionale contro il governo Meloni perché questo governo, che aveva promesso tante cose appena un anno fa, non sta dando le risposte che servono al Paese. Dovevano tagliare le accise e non le hanno fatte, c'è un'inflazione galoppante, nuove povertà si avvicinano, non ci sono garanzie sul lavoro, quindi abbiamo fatto una grande mobilitazione sul salario minimo, faremo una grande mobilitazione sulla sanità pubblica, faremo e stiamo facendo una grandissima mobilitazione contro l'autonomia differenziata. Il PD regionale in Consiglio regionale porta avanti la sua opposizione, è un'opposizione sempre corretta, mai pretestuosa? Assolutamente sì, è un'opposizione che sfida anche, ho chiuto, noi abbiamo detto più volte anche sui temi della sanità di venire in Consiglio regionale, anche sulle politiche industriali e anche sulle riorganizzazioni del settore agricolo. Venite in Consiglio regionale, facciamo una grande discussione sulle grandi sfide, sulle grandi riforme, il PD è pronto a raccogliere quella sfida. Purtroppo ad oggi rileviamo solo grandissimi e importanti annunci, soprattutto social e niente di concreto. Quando si parla di sanità si parla di un mondo, a volte funziona, a volte funziona meglio, però in questo discorso della sanità anche come recita la Costituzione c'è il contributo di sussidiarietà che dà la sanità privata accreditata. Ma assolutamente sì, le due cose si tengono assieme. Il problema è la visione che oggi la Calabria deve mettere davanti ai calabresi e che non è una competizione tra il pubblico e il privato, si devono compensare e la visione è di dare una sanità forte, vera e di risposta concreta ai calabresi. È questo che manca oggi, è una visione complessiva della sanità calabrese perché purtroppo rileviamo e vediamo che ci sono ampie zone della nostra regione dove le carenze sono strutturali e la migrazione sanitaria continua, nonostante ci siano delle straordinarie eccellenze sia nel pubblico, nell'azienda sanitaria calabresi ma anche nel privato. La Calabria non è tutta da buttare, bisogna riorganizzarla e bisogna avere il coraggio di fare delle scelte importanti e per questo noi chiediamo al commissario, alla sanità che è anche il presidente di regione, quelle scelte di farle e di sfidare il Consiglio regionale, di venire in Consiglio regionale e lì ci possiamo trovare con una sintesi perché in quel caso sulla sanità noi non tifiamo centrosinistra e centrodestra, tifiamo Calabria.